La sconfitta di Napoleone a Waterloo La battaglia di Waterloo, combattuta il 18 giugno 1815, segnò la fine dell'impero francese e la definitiva sconfitta di Napoleone Bonaparte. La battaglia, che si svolse nei pressi del villaggio belga di Waterloo, fu una delle più sanguinose e decisive della storia. Napoleone, che era stato esiliato sull'isola d'Elba dopo la sconfitta di Lipsia nel 1813, era riuscito a tornare in Francia il 20 marzo 1815. In pochi mesi, aveva radunato un esercito di circa 120.000 uomini e aveva invaso il Belgio, minacciando la coalizione di potenze europee che lo avevano sconfitto nel 1814. L'esercito della coalizione, guidato dal duca di Wellington e dal maresciallo Blucher, si schierò a difesa della linea difensiva tra Bruxelles e Namur. Napoleone attaccò il 16 giugno, ma fu respinto dalle forze del duca di Wellington. Il giorno successivo, i prussiani, guidati dal maresciallo Blucher, arrivarono sul campo di battaglia e attaccarono le forze francesi alle spalle. Napoleone tentò di contrattaccare, ma le sue truppe erano ormai estremate e demoralizzate. La battaglia si concluse con la vittoria della coalizione e la definitiva sconfitta di Napoleone. Cause della sconfitta Le cause della sconfitta di Napoleone a Waterloo sono molteplici. Innanzitutto, l'esercito francese era in inferiorità numerica rispetto alle forze della coalizione. In secondo luogo, Napoleone era privo di alcuni dei suoi migliori generali, che erano stati uccisi o catturati nelle battaglie precedenti. In terzo luogo, il terreno, che era pesantemente irrigato dalle piogge dei giorni precedenti, rendeva difficile l'avanzata dell'artiglieria e della cavalleria francesi. Inoltre, Napoleone commise alcuni errori strategici che contribuirono alla sconfitta. In particolare, attaccò il 16 giugno, quando le sue forze non erano ancora pronte, e non riuscì a coordinare efficacemente l'attacco delle sue truppe. Conseguenze della sconfitta La sconfitta di Waterloo segnò la fine dell'impero francese. Napoleone fu esiliato per la seconda volta, questa volta nell'isola di Sant'Elena, dove morì nel 1821. La vittoria della coalizione ripristinò l'ordine in Europa e segnò l'inizio dell'era della restaurazione. I trattati di pace che seguirono la battaglia di Waterloo consolidarono la posizione delle potenze europee che avevano sconfitto Napoleone e posero le basi per la formazione dell'ordine internazionale che sarebbe durato, fino alla Prima Guerra Mondiale. La battaglia di Waterloo nella cultura La battaglia di Waterloo è stata una delle battaglie più importanti della storia e ha avuto un'influenza significativa sulla cultura europea. La battaglia è stata raffigurata in numerosi dipinti, film e romanzi. Tra i dipinti più famosi che raffigurano la battaglia di Waterloo si trovano La carica della Cavalleria della Guardia Imperiale di Horace Vernet, La battaglia di Waterloo di Peter De Wint, La ritirata della Guardia Imperiale di Carl Philippe von Romor. Tra i film più famosi che raffigurano la battaglia di Waterloo si trovano Waterloo asterisco asterisco, film del 1939 diretto da Sergei Eisenstein. L'uomo che uccise Napoleone asterisco asterisco, film del 1976 diretto da Richard Lester. Waterloo, film del 2006 diretto da Rodolphe Marconi. Tra i romanzi più famosi che raffigurano la battaglia di Waterloo si trovano Waterloo romanzo del 1815 di Victor Hugo Waterloo, romanzo del 1961 di Bernard Cornwell Waterloo, romanzo del 2000 di Michael Ondatti e punto La battaglia di Waterloo continua ad essere un evento affascinante e controverso che continua ad affascinare e a ispirare artisti, scrittori e storici. Grazie. 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 Grazie.